Allora, buongiorno. Io sono l'allenatrice della categoria Under 13 del Saronno Softball. La nostra società è nata nel 1973 e negli ultimi anni stiamo lavorando tantissimo per il reclutamento del settore giovanile. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato un reclutamento, un inserimento di oltre 30 bambini sotto i 13 anni, dagli 8 ai 13 anni e con questa squadra come l'anno scorso disputeremo all'11 di settembre i playoff della categoria, sperando appunto di cercare di raggiungere il massimo trofeo che è lo scudetto nazionale. Andremo a giocare a Forlì e questo gruppo quest'anno è formato da, come dicevo prima, 30 bambini che è un gruppo, quelle un po' più grandi sono quelle che disputeranno lo scudetto, i playoff e i più piccoli invece hanno disputato un campionato per la loro categoria proprio per l'inserimento e la comprensione del gioco. È un gioco un pochino più ludico, ecco, con degli aiuti, delle regole un pochino più diciamo morbide per evitare che i bambini abbiano questo brutto impatto del gioco, mentre questo gruppo di bambini è molto tosto nel senso che siamo andati anche a Genova quest'anno, si sono divertiti tantissimo, è un gruppo molto unito e già cominciano a fare vacanze assieme quindi iniziamo a avere proprio un bel gruppo che l'anno prossimo affronterà invece il campionato vero e proprio. All'11 di settembre faremo la giornata dello sport dove cercheremo anche lì di reclutare altri bambini e poi spero che quest'anno riusciremo ad andare nelle scuole perché il nostro, diciamo, modo per reclutare i bambini, andare nelle scuole e presentare il nostro sport e farli un pochino appassionare. Solitamente nelle scuole vanno gli allenatori della Serie A e negli ultimi anni abbiamo un collaboratore, cioè già dall'anno scorso un allenatore cubano, si chiama Pedro, che insieme a Giovanna Palermi sono andati anche l'anno scorso per poco tempo purtroppo, sono andati nelle scuole per reclutare bambini. Diciamo che negli ultimi due anni la società ha aperto un po' gli orizzonti verso il settore giovanile, in che modo? Prendendo proprio degli allenatori anche stranieri che sono sempre presenti molte ore al giorno, tutti i giorni e ci danno una mano proprio per l'insegnamento dei fondamentali. Si è visto perché oltre a raggiungere nella nostra categoria i playoff, siamo riusciti con la Serie A, per la prima volta nella storia del Saronno, a raggiungere un trofeo internazionale, che è la Coppa delle Coppe. È un trofeo, cioè per noi era sentitissimo, l'anno scorso l'abbiamo perso di poco, per poco, tra l'altro l'anno scorso l'abbiamo giocato in casa, quindi perdere è stato abbastanza amaro, mentre quest'anno la determinazione era alle stelle. Le ragazze volevano assolutamente portare a casa questo trofeo, gli allenatori hanno lavorato e la società ha lavorato per far sì che questo trofeo venisse a casa e siamo riusciti a portare questo grande trofeo alla città di Saronno, perché comunque Saronno in Spagna hanno conosciuto Saronno come squadra di club e noi siamo orgogliosi di questa cosa tantissimo, perché ci sono squadre che ci hanno messo anni, anni, anni. Noi che militiamo nella massima serie sono nove anni, perché abbiamo avuto un passato, poi il ricambio generazionale insomma ci ha un po' penalizzato. Negli ultimi anni siamo nella massima serie ad alti livelli, quindi adesso concorreremo anche per la conquista dello Scudetto, che chissà, se vinciamo lo Scudetto magari l'anno prossimo andremo a fare la Coppa dei Campioni, quindi aggiungiamo trofei, cerchiamo di raggiungere e aggiungere trofei alla nostra bacheca che è molto importante per noi, anche per farci conoscere. L'orgoglio perché è l'orgoglio di questi trofei? Perché alla fine nel nostro sport il compenso economico è niente, però per ricompensare dei tanti sacrifici, cioè tanto lavoro, noi siamo tutti volontari, quindi veniamo qua quasi tutti i giorni, il sabato, la domenica, d'inverno siamo in palestra, quindi è un lavoro che si sviluppa nei 365 giorni e portare a casa finalmente i trofei, vedere che le squadre cominciano a crescere, che il nostro livello di gioco comincia a essere competitivo anche a livello giovanile, vuol dire che stiamo perseguendo la strada giusta, è quello che abbiamo intenzione di fare, il nostro presidente vuole a tutti i costi questo, perché noi abbiamo bisogno di partire dal basso, perché la Serie A dovrà avere giocatori di Saronno che andranno a fare il ricambio generazionale quando queste ragazze decideranno un giorno di smettere, prima o poi sarà così. La cosa bella di questa Serie A che abbiamo iniziato da quest'anno a introdurre le prime giocatrici del vivaio saronnese, quindi abbiamo per esempio una giocatrice che è Mirtan Selmi che non solo ha vinto insieme a Desiree Romanò la Coppa delle Coppe insieme alla Serie A e fa parte ormai del roster della Serie A, quindi della squadra, ma ha partecipato con la nazionale under 15 all'europeo ed è arrivata seconda, quindi un bel trofeo anche per la nostra giocatrice e invece nel settore giovanile under 13 Sofia Di Fonzo con la nazionale under 13 ha vinto invece la medaglia d'oro nel europeo di categoria che si è giocato a collecchio. Nella nostra squadra della nazionale Signores sono presenti invece quattro giocatrici che con la nazionale hanno vinto invece il bronzo nell'europeo e sono Giulia Longhi che è il nostro capitano ed è anche capitano della nazionale, Fabrizia Marrone, Alice Nicolini e Alessandra Rotondo. Quindi siamo fieri che anche nella massima serie siamo presenti e attivi come si suol dire.